Questo è il nostro baglietto, cannevola al 2024, vi rende la mani manuale, eccoci! Anche la ballezzata che stai subito in me, faccio la laguna per dire ciao, in cui la mi va fuori per sorridere. Anche se stai cercando una mia fedele, sei un'indicazione per la mia professore, la nonce alla balla che mi poi te la ricorda. Questa amigitiera dipende da te Chi è statico? Chi è statico? Chi è statico? Grazie a tutti.